Pierina Tavani, nome di battaglia Stella, staffetta nella brigata Garibaldi Luigi Evangelista, Val Darda, provincia di Piacenza. Non sapevamo neanche i nostri veri nomi, ma solo i nomi di battaglia, e io per tutti ero Stella. Era una vita dura, ma resistevamo, perché più che amici eravamo fratelli, ci volevamo bene. Sono figlia di antifascisti, anche se di politica in casa con noi bambini non se ne parlava. Noi studiavamo Mussolini come se fosse un dio in terra, e solo dopo abbiamo saputo tante cose che ci erano state tenute nascoste. Il primo ad avere rapporti con la resistenza è stato mio fratello Giovanni. Poi ho conosciuto Dario, il comandante della SAP, squadra di azione patriottica, che aveva il suo distaccamento alla baracca di Roncarolo, sull'argine del torrente Chiavenna. È stato lui a insegnarmi a fare la staffetta. Io avevo solo 18 anni, non sapevo neanche cosa volesse dire. Però questo è stato il ruolo che ho scelto e che ho portato avanti fino alla fine della resistenza. dalla baracca andavo in bicicletta alla diga di Mignano, attraversando la via Emilia, un viaggio di 40 chilometri, per rincontrare mio fratello o altri partigiani di Giovanni lo Slavo, e tenere i contatti tra le SAP della pianura e le formazioni della montagna. Poi dovevo tornare indietro, da Dario a Caorzo, per riferire le novità, oppure da Bore andavamo a piedi a Morfasso, attraverso sentieri nei boschi. C'era da stare attenti. I miei genitori restavano in pena tutto il giorno, aspettando che tornassi a casa. Si facevano strade di campagna, non potevi fidarti di nessuno. Io non ho mai portato un biglietto. Imparavo tutto a memoria, per precauzione, così se mi avessero catturata le informazioni che portavo sarebbero rimaste in salvo. Guarda qui, stai attento a quello là, non fidarti degli amici, non fidarti dei nemici, non parlare mai con nessuno di quello che fai. Queste cose me le ha insegnate Dario. Noi eravamo ragazzi, non sapevamo niente del mondo. Senza persone come Dario che ci facevano da guida saremmo durati ben poco. Nell'agosto del 44 i nazifascisti mi hanno catturata mentre ero a casa dei miei genitori. Sapevano tutto di me. Probabilmente tra noi c'era qualche infiltrato. Sono arrivati alle 5 di mattina e mi hanno portata a Villa Merli, a Cremona, dove c'erano le SS, reparti italiani delle SS. Il ponte sul Po era stato bombardato. Abbiamo dovuto raggiungere la sponda opposta in barca. Mi fecero attraversare tutta la città a piedi, spingendomi avanti con i mitra spianati per farmi vedere alla gente. Tutti mi guardavano con gli occhi sbarrati. Ero giovane, ma fisicamente sembravo ancora più giovane della mia età. E poi sapevano benissimo dove mi avrebbero portato e cosa mi aspettava. Io camminavo spavalda, con la testa alta, ma mi domando ancora oggi dove ho preso quel coraggio, perché in fin dei conti ero ancora una bambina e non so come ho fatto. Però l'ho fatto e lo rifarei. A Villa Merli ho preso tante botte, ogni giorno una dose per dieci giorni, compreso il giorno del mio diciottesimo compleanno. Ma per fortuna non mi hanno mai torturata. Mi hanno rilasciata con la falsa promessa di aiutarli a raccogliere informazioni sui partigiani e così sono tornata a casa. Sono rimasta a letto una settimana con la febbre alta per la paura e le botte subite. Ma appena guarita sono tornata in montagna.